E' stato presentato questa mattina presso l'auditorium di Corso Inghilterra il progetto di ridisegno dell'area metropolitana ovest alle porte di Torino. Si tratta dello studio relativo al corridoio plurimodale di Corso Marche, che la provincia di Torino ha affidato all'architetto Augusto Cagnardi dell'Agregotti Associati, dopo la firma del protocollo d'intesa con i comuni di Torino, Collegno, Grugliasco, Venaria, con la Regione Piemonte e la Camera di Commercio. L'asse di Corso Marche costituisce l'opportunità per realizzare un'opera unica nel territorio italiano. Un corridoio infrastrutturale che integra su più livelli la nuova linea ferroviaria Torino-Lione, un tratto di autostrada tangenziale sotterranea e un nuovo viale urbano di superficie e, allo stesso tempo, un intervento strutturale per il riequilibrio socio-economico dell'area metropolitana. La provincia di Torino ha assunto il proprio ruolo di governo di area vasta, ha coordinato con la Regione Piemonte i comuni di Torino, Grugliasco, Collegno e Venaria in una concertazione indispensabile per portare a compimento la fase progettuale dell'opera. Corso Marche è la sede delle eccellenze, potrà essere, la sede delle eccellenze di Torino, di ciò che Torino fa e conquista. Le conquiste che Torino fa nel mondo sono legate ad alcune particolari attività. Bene, queste hanno un grande ruolo nel promuovere la città e potranno essere un grande segno per la città futura. Oggi abbiamo parlato di futuro ed è un grande sollievo riuscire a parlare di futuro. Presidente, ci vuole parlare del ruolo della provincia che coinvolge in un progetto così importante una fetta del territorio? La provincia di Torino ha sostanzialmente svolto un ruolo da motore per la predisposizione di questo progetto di ridisegno territoriale di Corso Marche. L'abbiamo fatto insieme alla Regione, insieme ai comuni interessati, Torino, Collegno, Grugliasco, Venaria. L'abbiamo fatto incaricando il professor Cagnardi, cioè abbiamo svolto il ruolo tipico della provincia, che è quello di governo di area vasta. Si parlava di Corso Marche addirittura nel 1959, poi se ne è parlato nei successivi strumenti urbanistici, non si è mai partiti perché è mancato questo lavoro di mettere assieme le esigenze dell'amministrazione comunale. Noi l'abbiamo fatto e siamo soddisfatti perché abbiamo confermato che il ruolo della provincia è estremamente importante. Non si sarebbe potuto fare quello che è stato fatto senza un ente come il nostro, di area vasta.